Musica Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale, qui vi parla è Simodan2000 E oggi ragazzi siamo tornati su Dragon Box Universe 2 per un nuovissimo video nel PvP Online Ragazzi come in ogni video vi invito sempre a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto Inoltre invito ragazzi anche ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina, a lasciare un bel commento e a condividere il video Mi raccomando ragazzi perché è molto importante Oggi ragazzi siamo tornati qui su Dragon Ball Siccome ho notato che l'ultimo video che ho fatto, ovvero quello del PvP Online usando i personaggi casuali Che è infatti quello che faremo anche oggi ovviamente E' andato molto bene, infatti molti altri ve l'hanno richiesto Quindi a questo punto magari proviamo a fare un po' più video, se riesco, su Xenoverse nel PvP Online Ovviamente sempre partite dei giocatori E utilizzando i personaggi casuali Quindi a questo punto ragazzi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto l'altra volta Ovvero andiamo su Battaglie Online Creiamo la stanza, ovviamente senza limiti E una volta aver creato la nostra cara stanza Per appunto l'1v1 Noi ragazzi ci vediamo direttamente quando il giocatore verrà trovato A tra poco Ok ragazzi, eccoci qui con il nostro primo avversario Ovvero Chabon Siamo pronti per iniziare e speriamo che ci esca un bel personaggio Ecco appena ho detto che l'abbiamo trovato Da 3 ci sono 2 le dacche Ok Ehm Gon ragazzo Namek Zucchi Ok È fatto tipo un personaggio All'ultra istituto Proprio incrazzato In questo caso non nero Incazzato bianco letteralmente Allora, questo dovrebbe essere il gono che si carica Vediamo un po' se lì si carica Dunque Se lì si carica, ok La carica potente abbiamo giustamente perché dobbiamo essere potenti Eh Avanti con forza Si trasforma? Ah, in Super Saiyan 2 è evoluto? Mi sembra di sì E noi in Super Saiyan 2 D'accordo, iniziamo a questo punto, vai Subito Avanti, bello Vai Ma che... Vabbè Eh Che sto facendo? Non si è capito, però ok Che sto facendo? Non si sa, però erroraccio Mi dispiace amico Mi dispiace molto Lo prendi? No, ovviamente Perché sta super laggando questo E ci riprovo, allora E niente Va bene Va bene Non so, tra l'altro Gohan Dove è andato a colpire Però ok Va bene Super valore del drago Niente Ah, l'ho preso Comunque non si sta capendo niente Però va bene Dai, forza Ancora sta mossa Ok, vabbè Non l'ho preso D'accordo Avanti, forza E niente Cioè, non riesco a fare la parola Aspetto per chi lagga troppo Comun'stoppo Vabbè Oh Qua stiamo rischiando Oh no 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 Stavo scherzando Vabbè, ho capito Facciamo la facilità subito Dai Ma Vabbè D'accordo Vabbè Lo prendiamo Grazie mille Ha lanciato Gohan Dei colpi proprio di qua e di là Però va bene Comunque In ogni caso Secondo me Questo quando rientrò nella stanza Avrà tipo un'attacca Non so perché non l'ha colpito all'inizio Però D'accordo Bene A questo punto ragazzi Possiamo andare avanti E cerchiamo di trovare subito Il nostro secondo avversario Ok ragazzi Eccoci qui Con il nostro Secondo avversario Fortunatamente Non sta passando troppo tempo Tra un avversario e l'altro Carlettes BMW Power A meno questo qui appunto Spagnolo L'altro invece è una francese Sembra essere In un'ottima condizione Con la connessione E' un po' Goten D'accordo Qua stiamo trovando Tutta la famiglia di Goku In versione mini Andiamo un po' con Goten Come ce la capiamo Eh Perfetto Ah benissimo E mi sa che qua Già sono fritto in padella Come una patatina Bene Ormai appena si vede Quello di Coppa è perfetto Siamo fritti ragazzi Però noi faremo L'impossibile Dai E c'è tanto il fatto Che non lagherà Vediamo un po' Se lui si carica Carichi? Ok Almeno si carica Dai Allora Ah non ha messo La carica suprema A quanto vedo Vabbè Facciamocela abbassare Qui e qua Dai Ok Allora forza ragazzi Diamo un po' Quello che usciamo a fare Ad avanti Ok Eh già il fatto Che siamo riusciti A dargli un colpo Già è tanto Secondo me ragazzi Ok forza Vai Goten Ad avanti Niente Non riusciamo a fargli Una kamekamea Come si deve E niente Il fatto che è pure Troppo alto Quindi secondo me Non riesce a colpirci bene E appunto Questo volevo dire Oh Attenzione forse Vai forza Niente Eh qui avevo capito Che io lo facevo Secondo me Lancia gira E niente Non d'ascordo Eh però con questo Ultra limitativo Purtroppo L'era un po' Troppo Infatti Questo intendevo Vai forza Goten Fai il possibile Avanti Una bella kamea L'ha colpito Però Più o meno Cioè Qua però Stavolta Lo attivo io Vai Con queste sferette Qua belle Provaci lo stesso Avanti Goten Vai provaci Dai E niente Avanti Provaci Benissimo Colpiscilo L'ha colpito Benissimo Vai così Goten Uh attenzione Forse però Se ci riesco Niente Eh mi sa che qua Mi fa appunto Lo stamina Non lo so Comunque mi sta colpendo Un po' troppo a distanza Non so come fa Sinceramente E niente Non l'ho preso Forse basterebbe Una bella Kamea Ora vai Maravissimo Goten Mamma mia ragazzi Che battaglia questa Devo essere sincero Qui sono stato molto fortunato Perché Sono stato fortunato Che mi è uscito un personaggio Piccolissimo come Goten Perché vedevate Cooler è troppo alto Quindi non riesce a colpire L'unica pecca di Cooler Coppa perfetto Che è troppo alto Quindi non riesce a colpire I personaggi Nani Ecco A questo punto ragazzi Noi andiamo con La terza battaglia E il nostro terzo avversario Ok ragazzi dunque Eccoci qui con il nostro Terzo avversario Questo invece ci ha messo Tipo 3 ore Per entrare Però D'accordo A questo punto Direi che possiamo Iniziare Abbiamo il Sad Act 123 Oh 1 2 3 Vediamo un po' Se c'è un altro personaggio Tra l'altro Sento che sta parlando Mi sembra che sia Tra l'altro Anche francese Se non sbaglio Bene Guldo Perfetto Mondo Kaioshin Lui Vegeta Ah come Lo scontro che Guldo aspettava Da tempo Guldo contro Vegeta Nell'anime In cui voleva Vendicarsi Per tutti quegli Insulti Insulti Poi ho preso in giro Ecco punto Vegeta Allora Ecco Questo qua E' il solito Venuto per fare Tipo la presenza Ok va bene Ah però Se la cava Vediamo un po' Ovvio che se la cava E' un mostro Vai Guldo Colpo di cura Forza Ah è Guldo Che fa la Breakdance Mi lascio sentire Ragazzi Le sue parole Non so Sembra che sia Tipo Non so Impassendo Comunque Passiamo subito Alla prossima Battaglia Dai Ok Passiamo subito Ragazzi Alla prossima Battaglia Ok ragazzi Eccoci Qui arrivati Qui al quarto Avversario Questo qui È entrato Subitissimo Due tacche Purtroppo Un altro Francese A me entrano Tutti i francesi Però Ok Spero che questo Non impazzisca Nella chat Come ha fatto Il precedente Avversario Vediamo Freezer Super cattivo Bene Da un po' Stage Montagne Notte Ok Ormai Comunque ha Seudato Che Guldo Mi deve uscire Quasi sempre Comunque Anche quando Devo fare Tipo Dei combattimenti Contro I miei amici Mi esce Quasi sempre Guldo Vediamo un po' Come ce l'avevamo Con il nostro Caro Freezer A lui Trunks Bambino Ok Vai Guldo Scappa Scappa Da Kiki Scappa Anche lui Durante la notte Sarà un teore Del destino Ok Vediamo un po' Se lui si carica Ok Si carica Bene Perfetto Ok Vediamo Se si trasforma Si si trasforma Perfetto Iniziamo subito Iniziamo subito Così vai Lama dell'imperatore L'abbiamo preso Benissimo così Ah L'abbiamo subito Proprio così Bene bene Vai Ok Già non si sta capendo niente Con un po' Di lagge Però ok Sta lanciando palline In continuazione Questo Però va bene Ma che Vabbè Oh ma quanto leva Trunks Non mi ricorda Che le vaste così Un po' di lagge Letale Benissimo Lama dell'imperatore L'ho preso Vabbè Non ho capito Che sta facendo Comunque Altra cosa perfetta Però te la faccio Anche io stavolta Allora Ancora sta mossa Vabbè Pensavo che Si parasse Oh ma Tra l'amse Le va parecchio Con le palline Ancora sta mossa Vabbè Oh oh Addirittura Ancora sta palline Però va bene Vai Freezer Non ti fermare Forza Vai E così Coda E niente Niente Non mi colpisci D'accordo E addirittura Sai che faccio Subito così Vai Freezer Forza Ah Ah pure Che è la super corazza No dai E qua E qua Sono scorsita A fare la prisa E quanto Ah Non ho Oltre limite Giusto Questo qua È un super cattivo Oh mio dio Oh my god Oh my god Oh my god Vabbè Vabbè Peccato Devo essere sincero Trunks L'ho sottovalutato Ovviamente Ma le va tantissimo Comunque Poi purtroppo Aveva la super corazza Come oltre limite E mi ero dimenticato Che purtroppo Là Deve usare solo C'è bisogno di usare solo Le prese Comunque a questo punto Ragazzi Passiamo Alla quinta Ed ultima battaglia Ok ragazzi Dunque Eccoci qui Arrivati con il nostro Ultimo avversario Ovvero Mitsuki-san E dovinate un po' Anche questo francese Non poteva mai essere Comunque Vediamo un po' Come va questa qui Ultima battaglia Controlliamo Gianinba Tra l'altro Personalizzato Non mi ricordo che mostro Gli ho messo Le solite Solo che gli ho messo Almeno qui la carica Vabbè Tra l'altro questo qui È Black Gianinba Namek D'accordo Allora Lui Shisui Praticamente sarà fan di Naruto Ok Ecco qui Che mira Sta per spaccare Televisore Cellulare Da ciò che state vedendo Lo schermo Comunque Devo un po' Se lui si carica Si carichi tu? Non si carica Non andando indietro Ah ok Adesso si carica Ok d'accordo Dai forse di aspetto Ok perfetto Trasformi? No Vabbè Ok vai subito Dai subito con lo spadone Vai Gianinba Forza Con lo spadone Vabbè Ma che sta facendo? Vabbè Non so che sta facendo questo Però ok Dall'altro lato Vai 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 Di prova Ci vai 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 Perfetto così Forza Ok Non capisco Che stavessero sempre Stiamo venza Però Ok D'accordo Ma Due secondi Eh Avevo questo Trasporto di Genova Purtroppo non riesco A tenerlo sotto controllo Cioè Si muove avanti e indietro Mi sta facendo Un animal di testa Guarda Ancora E niente Ancora Vabbè Non riesco a beccarlo Guardate È sempre impossibile Non riesco a beccarlo Ok No Vabbè Devo fare l'evasiva Qua dovevo fare Ancora Oh ma che cazzo Vabbè Finito? Che dici? Finito? E niente Ancora Forza Vai Gianimba Niente Non riesco a beccarla così Ve lo giuro Penso che questo È l'avversario Più imprendibile Che abbia mai incontrato Guardate Ancora Ma tra l'altro Mi prende pure Un po' A distanza Così Non capisco Come cavolo fa Non riesco a prendere Neanche con la presa Però ok Vorrei evitare Fare lo stamina Perché lo stamina Di Gianimba Mi ricordo Che era un po' Bruttino E niente Forza Colpisci Ma avanti E fatti Fatti rompere Staguardia Ancora Mamma mia Che oltre il limite Pietoso 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 Proprio E poi Ecco qua E passiva Per eccellenza Qua Finalmente Però anche lui L'ultimità Ancora attivo Quindi Ecco appunto Sapete cosa Vai 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 L'ultimo Perfetto Qua mettete Dover Parecchio spammato Ragazzi Ma questo Vi giuro Sempre imprendibile Poi Gianimba Non lo so Usare bene Purtroppo Perché Questo teletrasporto Che Vedete Un po' Difficile Da utilizzare Ah no Qua mentre Facessi teletrasporto Vabbè Ok Mettiamoci La fine Alla fine Avanti Fagli una presa Avanti Questa è la prima Sì La prima che ho fatto Bene Adesso si è trasformato Ok da un po' Se riesco a farlo Pure con l'ultima presa Avanti No Prendilo forse Eh beh E niente E niente Vabbè Peccato Non volevo Spammare un'altra volta Ragazzi La mossa con la spada Però Devo essere sincero Questo qui È davvero Un avversario tosto Purtroppo Il teletrasporto Di Gianimba Purtroppo Mi fa confondere Perché Non è quel castro Del trasporto Ma tipo Sparisce nel tempo Però comunque Mi sono divertito A questo punto ragazzi Che possiamo tornare A Conton City Per i saluti A tra poco Dunque ragazzi Eccoci qui Tornati a Conton City Sono state delle battaglie Comunque Molto Particolari Anche questa volta Diciamo che Comunque Quella che più Diciamo Reputo Incredibile È stata quella lì Con Trunks Bambino Ovvero La quarta La penultima Lì davvero Ho sottovalutato parecchio Trunks Bambino Ma davvero tanto E quello è stato il mio errore Che davvero Leva un bel po' di danni Purtroppo Verso la fine Non so se mi avrete Siete accorti Ma la telecamera Non mi è tanto aiutato Infatti la telecamera Di Xenoverse Io l'ho sempre Criticata Però Comunque Nel mio caso ragazzi L'importante È che ci siamo divertiti Io spero Di avervi fatto divertire Anche voi Con queste battaglie Con questi incontri E se è così Io vi ricordo sempre Di lasciare un bel like E se il video vi è piaciuto Invece inoltre Iscrivervi al canale Ad attivare la campanellina Lasciare un bel like Mi raccomando ragazzi Anche a condividere il video Io Quando posso Cercherò di portarvi Quanti più video possibili Per quanto riguarda Le battaglie online Con i personaggi casuali Perché vedo che a voi Piacciano molto Detto ciò A questo punto ragazzi Io Vi saluto E ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao ragazzi Alla prossima Ciao ciao